La Juventus raddoppia al 29esimo minuto, grazie a Pirlo una splendida punizione ancora del regista della Nazionale, la terza rete incazionato per Pirlo. Rivediamo nell'angolo proprio alto sulla sinistra di Reina, guardate come si alza il pallone e poi come si abbassa. Dura da fare per Reina, in questo caso è difficile davvero.